Si torna a parlare della Movida, anche se non ci sono sostanziali novità, nel weekend i locali chiuderanno a 1.30, ci si avvicina però al Natale, l'augurio è che ci possa essere più movimento, gli esercenti possano lavorare e recuperare quello che non è stato nei mesi scorsi. Sì, la situazione purtroppo continua a perdurare, le aziende sono in grande difficoltà e abbiamo fatto una richiesta al Comune di riapplicare gli orari di quest'estate perché dicembre rappresenta per le imprese un momento fondamentale. Ricordiamo che queste imprese hanno già vissuto due lockdown, i protocolli Covid, lavorare, mi riferisco a una zona centrale, Piazza Muzzi, con orari ancora più restrittivi rispetto a quelli pre-Covid è una situazione paradossale. Come sappiamo dalla domenica al giovedì attualmente gli orari sono mezzanotte per quella zona centrale, il fine settimana a 1.30. Capirete da soli che è difficile lavorare, immaginate una coctelleria che apre lungi ma anche un ristorante che all'11.45 ti dice che devi uscire. È una situazione difficile tanto che degli esercenti hanno promosso il ricorso al TAR, quindi la situazione è questa, dopo tanti anni siamo dovuti purtroppo arrivare a questo. Io invito l'amministrazione a ragionare su quella che è una bomboniera e un'attrattiva di tutta la città e se continuiamo così si arriverà alla desertificazione di quella zona che porta un indotto commerciale importante a tutti i negozi del centro. Secondo lei perché non si è potuti arrivare ad una maggiore elasticità degli orari soprattutto nel fine settimana? A questa domanda io tuttora non so dare una risposta. Ricordiamoci che le ordinanze attuali fanno riferimento a uno studio dell'Arta di luglio. Luglio è stata un'estate particolarissima in cui fondamentalmente uscivano tutti e si era creato un imbuto nella zona centrale anche perché la riviera era spenta, non c'erano le discoteche ma ormai quella problematica non ha più ragione di esserci perché il flusso si sta dividendo in più zone della città per cui noi dovremmo tornare agli orari normali.